8 idee per uno stile old money perfetto per l'estate. Tutto questo tra un secondo dopo la sigla. Prima di entrare nel vivo della puntata permettetemi di ricordarvi che per chi fosse interessato ad approfondire i temi che tratto su questo canale, quindi eleganza, stile, buone maniere, galateo, eccetera, c'è la possibilità di abbonarsi. Abbonandovi al canale avrete infatti la possibilità di accedere a tutti i contenuti esclusivi, sono davvero tanti, e anche la possibilità di partecipare alle discussioni sul nostro salotto virtuale, il gruppo Telegram, appunto il salotto di Douglas. Maggiori informazioni in descrizione, ma ora bando alle ciance entriamo nel vivo della puntata. Prima di tutto chiediamo cos'è lo stile old money. Con questo termine anglosassone si fa infatti riferimento ad un'estetica associata alle alte classi tradizionali che hanno accumulato ricchezza nel corso di generazioni, quindi si fa riferimento all'aristocrazia, un tempo e l'alta borghesia. Attenzione però, le prerogative di questo stile che si basano su una eleganza sobria e discreta, cioè quindi lontana dalle ostentazioni, un po' anche cafone, del nuovo ricco, del parvenu, dell'arrivato. Si tratta quindi di uno stile focalizzato sulla qualità, sulla semplicità, sulla tradizione, tutti elementi importanti, quindi affine, molto estremamente affine all'eleganza classica. Avendo adesso chiaro cosa si intende per stile old money, andiamo adesso ad esplorare insieme alcune idee che potrete in qualche modo, se volete, reinterpretare e adottare, quindi fare proprie. Iniziamo! Partiamo con un qualcosa di semplice, ma che funziona sempre. Vedete, la caratteristica dell'old money è che non passa praticamente mai di moda, proprio perché fa riferimento a stilemi classici. Allora, la Miss che vedete indossata da questo ragazzo è trasuda old money da tutti i pori. Perché? È molto semplice in realtà, a ben vedere, perché è giocata fondamentalmente su due elementi, l'Apolo e i pantaloni. Entrambi due capi sportivi, ma classici. L'Apolo, ora, lasciamo perdere il marchio. L'Apolo è forse l'unico indumento che nell'ambito dell'eleganza classica può, anzi, giova nel manifestarsi, seppure in maniera discreta, nel manifestare, seppure in maniera discreta, il proprio logo, il proprio marchio. Cosa che invece non è concessa praticamente a tutti gli altri capi, perché tutti gli altri capi, se sono di qualità, si presume che siano fatti, o si auspica che siano fatti appunto da artigiani. In questo caso l'Apolo è un capo, per quanto industriale, è un capo classico, che si armonizza benissimo anche a tutti gli altri elementi classici della Miss. Un'Apolo, quindi, sobria, non troppo abbondante, nemmeno troppo aderente, quindi della taglia giusta. In questo caso è indossata dentro i pantaloni. Il ballo dell'Apolo è che si può indossare sia dentro che fuori da pantaloni. Ma guardiamo i pantaloni. I pantaloni sono leggermente abbondanti, non tutti acciucciati, stretti come vanno di moda oggi. Sono leggermente abbondanti, ma non troppo, per dare quella confortevole comodità e guardate l'elemento che richiama il classico, la presenza delle pence, con queste pence in particolare all'italiana aperte verso l'esterno. Una cintura sportiva di cuoio intrecciato, guardate bella, e poi tutto è coronato come ciliegina un po' sulla torta da questo pullover portato sulle spalle. E poi un orologio un po' vintage, di forma quindi appunto quadrangolare, che va ecco a impreziosire questa mise. La chicca che in qualche modo sancisce, vuole in qualche modo far associare lo stile old money alle tradizioni, ma anche alla cultura, è il libro che vediamo in effetti anche in quest'altra fotografia, sempre appunto della stessa mise. Il libro richiama la cultura, il contesto richiama l'Europa, richiama le tradizioni e se andiamo a vedere, ecco i tessuti sicuramente, quindi l'Apolo sarà ovviamente in cotone, picche di cotone, i pantaloni non so di che tessuto siano, potrebbero essere lino, potrebbero essere cotone, sicuramente, ovviamente non certo in poliestra, ricordatevi, quindi materiali naturali, l'old money rifugge il sintetico, come del resto un po' tutta l'eleganza classica. Abbinamenti interessanti che rispettano un po' questa estetica old money si fanno anche non solo ovviamente con l'Epolo, ma anche con le camice e qui vi mostro un esempio molto facile, ecco l'abbinamento forse più facile di tutti, cioè che è l'abbinamento estivo per eccellenza, cioè la camicia blu con i pantaloni bianchi o comunque chiari, ecco guardate e ricordatevi l'abbinamento blu bianco è l'abbinamento più facile, più indicato per l'estate, poi si può giocare con le varie sfumature del blu, volendo anche con le varie gradazioni del bianco, il bianco un po' sporco eccetera, questa immagine tra l'altro richiamo un po', non so forse anni 80, anni 90, guardate un po' anche la capigliatura di questo giovane che eccinge il braccio alla vita a questa bella ragazza, anche lei in stile prettamente old money, guardate anche qui l'orologio, un orologio braccialato, sportivo, in questo caso abbiamo anche una cintura color tortola, curioso, chissà, non sappiamo che calzatura indossa, comunque poi le vedremo nelle altre e nelle altre mesi, quindi molto facile ma sempre molto efficace. Se l'abbinamento blu bianco è molto facile e non si sbaglia quasi mai, in estate si può giocare con un abbinamento che è più difficile, che in inverno è sempre bene evitare, cioè il tono su tono, ebbene se abbiamo un po' di pratica il tono su tono, giocandoci con consapevolezza può sortire dei risultati davvero eccelsi. Ecco qui una splendida mise in stile old money che è giocata appunto tono su tono, la camicia è un bianco, un bianco ghiaccio abbinata a dei pantaloni che sono bianco sporco, bianco corda, bianco sabbia, ed è un abbinamento questo che funziona, perfetto per l'estate. Andiamo a zoomare per capire i tessuti, i tessuti guardate, le vedete tutte queste pieghine, queste grinze presenti sia sulla camicia sia anche sui pantaloni, bene queste grinze ci dicono che questi tessuti, c'è la camicia che i pantaloni sono molto probabilmente in lino, che è il materiale principe per l'estate. Poi troviamo un orologio braccialato, perfetto per un contesto sportivo come il quale quello nautico, la camicia portata leggermente sbottonata, due bottoni io consiglio soltanto, ovviamente quello del colletto è subito quello sotto, lui slaccia anche quello sotto, quello immediatamente inferiore e imbarca quindi in questo caso è scalzo. Ottima mis, ottimo abbinamento, andiamo avanti. Attenzione che l'hold money in contesti prettamente sportivi, prettamente vacanzieri, non solo tollera ma auspica anche pantaloni corti o costume, si può essere vestire old money anche in costume, non ci credete? Ve lo faccio vedere, porca miseria. Eccola qui, questa mis facilissima da commentare, qui ritroviamo l'apollo ma potrebbe essere benissimo una camicia, troviamo un costume, guardate un po' cosa notate, è l'abbinamento facile, fresco, estivo che abbiamo visto prima, cioè bianco e blu, in questo caso non so se è un bianco puro o un bianco screziato, una gradazione diversa del bianco, comunque un colore molto chiaro abbinato al blu e funziona magnificamente, diamo un tocco di stile in più, proteggiamo anche i nostri occhi con dei belli occhiali da sole. Adesso però cari amici voglio parlare di un altro capo interessante che rientra un po' se vogliamo nello stile old money, ma oggi forse un, non voglio dire dimenticato, però ecco non così frequente, che è la maglia marinaresca, la maglia marinaresca qual è? Eccola qui, la maglia marinaresca è quella appunto senza collo, anzi appunto girocollo oppure con collo appunto marinaro, caratterizzata dalle righe orizzontali blu, cioè di diverse tipologie, con righe più spesse, righe più sottili, oppure inverso, righe bianche sul sfondo blu, però ecco è la classica maglia marinara, la vediamo anche qui, che è veramente un classico per l'estate, però chiaramente in un contesto marittimo, ricordiamoci in città saremo veramente ridicoli, però portata lungomare, portata meglio ancora in barca, beh è veramente tradizione, eleganza contestuale, perché è sportiva ma contestuale e quindi appropriata e quindi elegante, e si applica, si abbina un po' a tutto, al costume, in questo caso costume rosso, meglio ancora su un costume blu, ma si abbina, lo vediamo qui, a dei pantaloni in lino, a dei mocassini, oppure si abbina anche in contesti più ordinari, eccola qui, questo è quasi un pullover portato addirittura sopra una camicia, chiaramente non certo in piena estate perché moriremo dal caldo, però un'estate a latitudini più elevate, oppure un bel settembre fresco alle nostre latitudini si può sfoggiare, questa è una bella mise, c'è sempre comunque il contesto marittimo, anche se voi vedete le piante sullo sfondo, un contesto marittimo richiamato non soltanto da questa maglia, ma anche dalle scarpe da barca, eccole qui, lo vedete. Un altro capo interessante, non facilissimo, come gli altri abitamenti che abbiamo visto, ma comunque interessante, che può, se giocato bene, può dare ottimi risultati, è la camicia celeste, celeste chiaro, guardiamo un esempio, questo è un abbinamento di una camicia, anche questo old money puro, una camicia celeste chiara, portata chiaramente mezza sbottonata, con le maniche leggermente risvoltate, su pantaloni bianchi, guardate, i pantaloni bianchi è praticamente quasi una costante, che siano bianchi, che siano beige, che siano color corda, è quasi una costante, ciò che varia più che altro è la parte sopra, questo però non significa che si debba necessariamente sempre indossare pantaloni chiari in estate, si possono indossare soprattutto la sera, ma non solo, si possono indossare anche pantaloni scuri, in questo caso si gioca con il blu, i pantaloni possono essere lunghi, oppure possono essere anche corti, in questo caso si può giocare con dei bermuda, e i bermuda sono infatti un altro capo che può essere sfruttato per conferire al nostro stile un'estetica un po' old money, vediamo un esempio, eccolo qui, la foto non è granché, però la means, secondo me, funziona molto bene ed è perfetta stile old money, perché? perché rivediamo la nostra polo, con il nostro marchio, c'è, ci deve essere in questo caso, ed ecco che vediamo i bermuda, i bermuda sono questi pantaloni lunghi più o meno fino al ginocchio, non sono mai troppo corti, i bermuda non sono mai troppo corti, in questo caso un color quasi khaki, che crea un tono su tono piacevole, c'è un pullover beige che va a richiamare questa sempre questa gradazione un po' di tonalità del tono sul tono, e sempre tono su tono, guardate queste mocassini da barca e color tortora direi, o comunque beige, ed è secondo me una means perfetta, infine concludiamo con l'orologio sportivo braccialato, perfetta! concludiamo infine con questa bella coppia, che è anche questa coppia sprizza stile old money da tutti i pori, elegantissima lei, elegante anche lui, la cosa interessante che l'ho presa in realtà queste sono diciamo un abbinamento che abbiamo già commentato prima, ma l'ho selezionata questa foto perché volevo far vedere i mocassini, questi sono dei pennyloafer che hanno un quid in più caratterizzato dall'essere bicolor, bicolore, un po' come le spectator, che danno un po' quel fascino retro in più, quella raffinatezza in più, bene qui si concludono ecco le otto idee per uno stile old money estivo, fatemi sapere cosa ne pensate e nel frattempo vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, come sempre se vi va noi ci vediamo nelle prossime puntate, ciao a presto